Fede, dopo tanta attesa è arrivata anche la gioia, te l'aspettavi e come l'hai vissuta? Sì e no, sognare di salire su un podio olimpico è un conto e esserci e salirci è un altro. Alla fine sono qui stasera, forse me ne sto rendendo conto adesso, è una sensazione bellissima e sono delle emozioni pazzesche. In famiglia è arrivata la medaglia olimpica, hai sentito tua mamma e poi quanto è stato importante tuo fratello qui a un certo punto? Mia mamma è qua ed era felicissima, spero non abbiano dovuto farle una puntura di adrenalina nel cuore perché è svenuta probabilmente dopo la seconda manche. E mio fratello è fondamentale ma dall'anno scorso a questa parte il lavoro si fa col tempo e non si fa in una giornata penso. Hai raggiunto la maturità dopo una carriera fino ad oggi un po' tortuosa, poi a un certo punto si esplosa e cos'è cambiato in Federica Brignone? Tante cose, sicuramente io ho sempre fatto questo sport perché mi piaceva, perché mi divertivo e sì sognavo di fare dei risultati, sognavo le Olimpiadi, però non ho fatto la professionista finché non sono arrivata forse alle Olimpiadi di Vancouver. Da lì in poi ho iniziato ad esserlo, ho iniziato a fare tutto per riuscire in questo sport e per essere soddisfatta di me stessa e di quello che facevo. Ed è stato solo dopo i due anni, dopo Soci, dove comunque non ero contenta di quello che stavo facendo, avevo avuto un po' di problemi fisici eccetera. E da lì ho deciso proprio per me stessa, ho detto ok smetti o fai tutto, veramente devi avere un atteggiamento mentale diverso, devi essere professionista dalla Z e così ho fatto e gli ultimi tre anni sono stati bellissimi. Oggi è stato complesso ancora di più perché in partenza c'era Manuela quando ero terza e quindi era o me o lei. Combattere una medaglia con una tua compagna di squadra è comunque difficile, è emozionalmente veramente difficile. Da una parte sarei stata contenta per me e triste per lei e idem se lei avesse fatto la medaglia sarei stata contenta per lei e triste per me. Quindi speravo facessimo lo stesso tempo a questo punto, però non è andata così e io alla fine rimane uno sport individuale, sono contentissima di essere qua e mi spiace per lei. Però quando sono arrivata giù ed ero seconda in più a 7 centesimi ero veramente nera e ho detto no di nuovo medaglia di legno come l'anno scorso ai mondiali. Invece poi la soddisfazione è esplosa tutta sul podio, come ti abbiamo visto veramente. Sì è stato emozionantissimo, io sono appunto un po' per le emozioni contrastanti, un po' perché mi sono resa conto di essere salita sul podio, è stato pazzesco, è esploso tutto. Cambia tanto nella vita di un atleta un momento come questo? Sicuramente sì, questo penso che ve lo dirò alla fine stagione, adesso ho ancora tante gare da fare, ho ancora tante cose su cui concentrarmi, poi vedremo. Io cercherò di rimanere quella di sempre. Riesci a tenerne qualcun'altra di medaglia qui o una è troppo? Come peso? No no, come peso ci siamo, non lo so se riuscirò a vincerne delle altre, io ci proverò.